Eccolo qua, e allora un grosso applauso all'Ethiope, Kimpe, Moulou, Aile Michael, della Dimension Red al Kumeca, che vince! Moulou, è un giorno difficile, ma è un giorno bellissimo per te? Ma è un giorno difficile, ma prima mi ringrazio, e poi mi ringrazio, e poi ho scopo, 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 e poi ho scopo. E' un primo clima per me ringrazio, e poi per me sorpresa oggi, non credo. Mi chiedo per me, perché è il mio primo vittorio all'Europa, perché dopo il Valle Osta è... Sì, sì, sono felice! Mi chiede Cavalera, un'altra vittoria internazionale per la Bassano-Monte Grappa? Qui siamo stupiti da questi stranieri che vengono alla Bassano-Monte Grappa, abbiamo fatto per molti anni vincitori italiani, in questi ultimi anni abbiamo vincitori stranieri è una bella soddisfazione per questa manifestazione Una giornata difficilissima dal punto di vista meteorologico ma è grande festa lo stesso per la Bassano Montegrappa tanta la gente che è venuta comunque ad applaudire questi ragazzi al treguardo Il meteo si sapeva che era così è andata forse anche meglio delle previsioni disastrose che c'erano abbiamo organizzato nel migliore dei modi e tutto è andato bene finora Il vincitore della 77esima edizione della Bassano Montegrappa viene dall'Etiopia Kife Muro Alemai con la della Dimensione 14 Eccolo qua